Il nostro stato d'animo in questo momento, almeno personalmente, cerco di pensare il meno possibile, nel senso che è chiaro che con la testa vai a guardare gli altri risultati, vai a vedere se c'è ancora la possibilità di salvarci direttamente, però penso che dobbiamo guardare in casa nostra e dobbiamo cercare di fare sei punti in due partite, che per quello che stiamo facendo sembra difficile, ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro percorso e poi andremo a vedere anche gli altri. Penso che sia superfluo in questo momento fare dei ragionamenti su questo, nel senso che ancora non c'è niente di stabilito e le posizioni possono ancora variare, ci sono tante cose ancora in ballo, quindi le squadre penso che come noi abbiano dei punti forti e dei punti deboli, dobbiamo essere bravi nel caso dovessero esserci play-out, di studiare bene gli avversari e prepararci per quello che sarà l'avversario. All'andata ci fu il cambio in panchina, ci furono buone sensazioni, una bella partita facemmo, però questa è la situazione, non è che possiamo pensare che le cose stavano andando meglio, poi sono andate male, le cose sono queste, dobbiamo prendere atto di quelli che sono stati gli avvenimenti fino ad ora, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per arrivare ad uscire da questa situazione e se dovessero essere play-out a giocarci dal meglio. Sono tanti i rammarici perché penso che si potesse fare molto molto meglio, però poi quando la stagione inizia male, gli avvenimenti non sono quelli sperati, gli episodi non vanno a tuo favore, inizia a prendere una brutta china, e io penso che dobbiamo trarre il meglio da questo finale e cercare di non pensare a quello che poteva essere, perché tanto a questo punto è inutile.